Chi è Roberto De Laurentiis? Un imprenditore di successo che è trentino e che ama la sua terra. Perché tre? Tre perché è l'iniziale di Trentino e risponde anche alle tre parole territorialità, responsabilità ed economia. Territorio perché naturalmente siamo lontani dai partiti nazionali e anche da quelli strutturati locali. Responsabilità perché è giunto il momento di assumersene non solo parole. Economia perché è l'unico modo per reggere l'autonomia, avere le risorse per essere liberi. Naturalità, noti e ospedali periferici. Qual è la soluzione di tre? Il 30% del nostro bilancio, circa un miliardo e 300 milioni, se ne va in sanità. Bisogna avere il coraggio di fare alcune scelte che non tutte siano simpatiche. Bisogna pensare che ci è costato un'enormità la protonterapia per pochi casi, anche se naturalmente una vita ha un valore enorme. E poi bisogna avere il coraggio di riassettare, di formare di nuovo tutta la rete sanitaria. Ne più ne meno come avviene in America. Oggi gli ospedali hanno 300 medici fra infermieri e personale e poi naturalmente nemmeno un paziente. Perché ci sono tanti piccoli ospedali periferici in cui per specializzazione viene inviato il paziente. Questo può essere un modello da seguire. Economia e lavoro. La ricetta per far tornare il Trentino competitivo. Dobbiamo per forza tornare a pensare di produrre qualche cosa che sia vero e non siano solo servizi. I servizi chiedono solo personale e specializzato. Noi abbiamo bisogno di far tornare una cultura del lavoro. A forza di ammortizzatori e a forza di essere un enclave, sostanzialmente abbiamo perso la voglia di lavorare. Siamo capaci come scuola di produrre dei grandi burocrati, non siamo capaci di produrre una classe imprenditoriale. Questo va invertito. Questa rotta. Burocrazia e appanti. Le idee di Trento? Le nostre idee sono queste. Tante volte le leggi provinciali si sovrappongono, addirittura confliggono con quelle nazionali. Quindi o stiamo fermi per qualche anno e buttiamo via tutte le leggi fatte ad persona, oppure effettivamente se facciamo leggi locali la nostra burocrazia deve per forza applicarle. Non fare come adesso che per evitare problemi i grandi burocrati della provincia continuano ad applicare le leggi nazionali e quindi si sovrappongono leggi locali e leggi nazionali. Secondo me c'è anche necessità appunto di togliere molte delle leggi che sono state fatte e che sono inutili e la stessa identica maniera va anche modificata un po' la macchina burocratica per evitare che diventi semplicemente un impedimento e non un aiuto, tanto per i cittadini quanto per le imprese. Infrastruttura. Perché sì alla Valdastico? Ma la Valdastico è un termine superato. Secondo me non può essere interrotta l'autostrada che viene da Piovene Rocchette dal Veneto, anche perché culturalmente ci avvicina a territori che hanno voglia di lavorare molto più di quanto ne abbiamo noi. Io credo che questa autostrada debba uscire a Rovereto perché Rovereto è la porta della Miteleuropa, è il posto dove fra qualche anno verranno fatti tutti i treni che vanno e vengono dal Brennero, è sostanzialmente una città post-industriale che in questo momento è semplicemente un paese. Dobbiamo trovare loro una collocazione. All'interno di un'autostrada che vale circa 2 miliardi e che esce a Rovereto Sud, nel progetto che TRAE ha, c'è anche il fatto di recuperare completamente tutta l'area della ex Alumetal, la ex Montedison, e quindi di trasformare tutta quella zona nella porta, nell'atrio vero di quello che è il Trentino. Sicurezza. Qual è la proposta di TRAE? Beh, intanto c'è necessità di sicurezza, c'è necessità di affrontare il tema dei migranti che non è molto semplice, però io credo che i modelli siano quelli di Austria e Svizzera, dove ad esempio si accolgono le persone ma si accolgono con certi criteri. Chi non ha quei requisiti per forza non può rimanere, verrà ospitato ma dovrà anche tornare di ritorno. Il problema però non è solo quello dei migranti, è quello della sicurezza in genere che il Trentino ha in questi ultimi tempi. bisogna potenziare un pochino le forze di polizia, anche la polizia urbana, perché non è pensabile che una persona vada a farsi accoltellare o si metta in mezzo a una risa per 1300 euro al mese. Dobbiamo dare loro dignità e dobbiamo avere anche la capacità di smetterla con questo buonismo, ma di colpire, quando si colpisce, le parti che sono sbagliate della popolazione e avere il coraggio appunto di mettere in atto tutte le cose che rendano più sicura la vita del cittadino. Che cos'è la territorialità? La territorialità è amore per il territorio ed è senso di appartenenza, quella cosa che noi non abbiamo ma che invece l'Alto Adige ha. Anche se è vero che l'Alto Adige, l'esperienza nostra, è unito da una lingua comune. Noi dobbiamo recuperarla e questo lo recuperiamo culturalmente partendo già dalla scuola, con un senso di appartenenza, col fatto di non avere tante valli slegate ognuna a un proprio mondo, ma di metterle insieme attraverso anche una maggiore responsabilità della classe politica, che deve smetterla di guardare il proprio elettorato, costruire le strade o fare le opere pubbliche solo dove incassa voti. Abbiamo necessità di qualcuno che sappia guardare al di là della propria chiesa e del proprio campanile. Ecco, io credo che dovremmo ripensare la classe politica in quest'ottica. Parla di responsabilità, perché? Responsabilità perché questa classe politica io credo ci abbia abituato a non prendere decisioni. Le responsabilità sono anche quelle di essere antipatico a qualcuno e non di dire sì a tutti e poi non fare nulla. Tre, ha anche questo significato. Io dico non servono programmi molto lunghi, non servono 300 pagine di sogni che non faremo mai, ma che servono solo per carta stampata, ma servono tre cose da fare e quelle tre cose farle dall'inizio alla fine completamente. Perché scegliere tre? Scegliere tre perché è una cosa diversa dalle altre. In questo momento siamo gli unici che non hanno fatto nessuna bagarre sulle posti, sulle sedie, sulle alleanze dove ci collochiamo, ma siamo gli unici che hanno parlato di qualche cosa che assomiglia a un programma di governo. Ha delle scelte ben precise da fare, ha la voglia anche di cambiare e di voltare pagina, non tanto per voltarla, ma perché c'è necessità di un Trentino diverso in grado di competere. Questo Trentino in realtà oggi è una palla al piede all'interno del Trentino Alto Adige, basta vedere il pil dell'Alto Adige, il nostro, per metterli a confronto, e è sostanzialmente incapace di correre, forse perché è come quelle persone ormai sazie e soddisfatte che non hanno voglia di far fatica e non pensano che tutti i giorni invece devono farsi carico della loro responsabilità per camminare verso un futuro sempre migliore.